Sembra che il principe Ferri e Meghan Markle abbiano avuto un momento imbarazzante, mentre venivano accompagnati ai loro posti durante la loro gita in Giamaica, rivela un nuovo video, mentre i fan reali commentano la loro reazione. Il momento imbarazzante in cui il principe Ferri e Meghan Markle, sono stati mostrati ai loro posti durante la loro gita in Giamaica all'inizio di questa settimana, è mostrato in un nuovo video emerso online. Il duca e la duchessa di Sussex, hanno fatto notizia dopo aver assistito alla premiere di Bob Marley, One Love al teatro Carib 5 di Crossroads, S.T. Andrew, prima dell'uscita del film il 14 febbraio. La loro apparizione è avvenuta durante la stessa settimana in cui la famiglia reale è alle prese con una serie di problemi di salute che coinvolgono Ray Carlo e Kate, la principessa del Galles. Nella nuova clip, Ferri e Meghan, sembrano esitanti mentre vengono mostrati i loro posti, che sono diverse file indietro rispetto alle prime file, dove di solito vengono sistemati gli ospiti speciali. Il duca di Sussex sembra pensieroso mentre sembra tenersi la barba. Mentre Meghan viene vista ascoltare la sua squadra prima di sedersi su uno dei posti. I fan reali sui social media, si sono affrettati a commentare il video. E molti hanno affermato che la coppia reale era scioccata dalla loro posizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.